L'industria Birmingham, una delle principali città manifatturiere d'Inghilterra, ha pensato bene di istruire i suoi più giovani cittadini alla disciplina del traffico e della viabilità, assecondando con lezioni teoriche e pratiche nelle scuole la passione del volante che alberga in ogni campione in erba delle nuove generazioni. Inutile dire che la classe di guida, che si vale di una minuscola ma autentica automobile a motore, è quella frequentata con maggiore entusiasmo ed applicazione dalle scolaresche di ambo i sessi, ai quali dopo la promozione è concesso inoltrarsi sulla pubblica via al volante di possenti volidi a un cilindro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!